Siccome secondo noi la cosa più complessa è recuperare un aspetto culturale del mondo dei rifiuti, della produzione eccetera, cerco di richiamare, aiutare a dare delle pillole per poter riflettere su alcuni passaggi. L'ultima cosa, insieme ai materiali come ci sarà necessità nelle situazioni di condominio, mi affissa anche una locandina condominiale che ricorda come gestire i nostri rifiuti.